Mentre il videogioco di Steve Russell e Amici veniva giocato in sempre più università e ispirava futuri imprenditori e sviluppatori, nel 1968 si muoveva un ingegnere di nome Ralph Beer che lavorava in gran segreto alla prima home console all'interno di un'azienda chiamata Sanders, assieme ad un piccolo gruppo di collaboratori. JP, ti andrebbe di parlare della prima home console? Oggi il console gaming è un fenomeno di massa. Milioni di persone nel mondo possiedono una Playstation, una Xbox o una Nintendo Switch in salotto e giocano alla televisione. Tutto però ebbe inizio dal Magnavox Odyssey, nato nel 1972 dall'intuizione di Ralph Baer, un ingegnere militare che lavorava per un'azienda chiamata Sanders. Nel 1966 ebbe l'idea di utilizzare la televisione, un dispositivo nato da poco non solo per guardare, ma anche per giocare. Baer lavorò per anni sul concept e nel 1972 Magnavox rilasciò l'Odyssey, che cambiò per sempre l'intrattenimento casalingo, introducendo l'on gaming. Sappiamo che Ralph Baer ha visitato il museo. Quanto amava il mondo dei videogiochi. Raccontaci qualche retroscena su di lui. Ralph Baer, il creatore di Magnavox Odyssey, era davvero un uomo incredibile. È stato un onore per me diventare suo amico nei suoi ultimi 15 anni di vita. La sua è una storia motivante. Da giovane ebreo negli anni 30 scappò dalla Germania nazista. Arrivò negli Stati Uniti, si arruolò nell'esercito americano e in seguito lavorò per la difesa, facendo carriera. A metà degli anni 60 iniziò a immaginare nuovi modi di utilizzare la televisione e gli venne l'idea di utilizzare i videogames. Ralph ha avuto una forte vena creativa per tutta la sua vita, anche dopo i 90 anni. Ricordo che lo andavo a trovare a casa e mi mostrava la sua ultima invenzione, una pizza rotante su cui dovevi piazzare ingredienti. Aveva un Raspberry Pi programmato da lui stesso, e tutto questo a 90 anni. È un privilegio per me diventare amico di una persona così curiosa, creativa, giocosa, con un senso dell'umorismo impertinente. Venne anche qui al museo un paio di volte per donare materiale della sua carriera e battermi sonoramente al gioco del tennis del Magnavox davanti ai miei colleghi, dato che se la cantava molto bene anche se andava per i 90. Ralph è un grande ispiratore e ci sono poche altre persone che avrebbero potuto fondare l'industria al posto suo. Era davvero motivante, premuroso, creativo, con una gioia eterna per l'invenzione e scoperta. Il creatore perfetto per l'industria dei videogames. JP, ora abbiamo in linea una persona che conosci molto bene. Ci sentiamo tra poco. Ciao Mark. JP ha avuto l'onore di presentare tuo padre. Ora tocca a te. Puoi presentarti al nostro pubblico? Marco, potresti dirci di più su tuo padre? Che tipo era? Il fatto è che era molto smarte e aveva una capacità unica che non ho. Ma ci ha insegnato di uscire quello che vogliamo fare, andare dopo quello che vogliamo fare e lavorare anche per l'invenzione. E anche per l'invenzione, che è affare un buon esempio. E' stato un buon pollo che aveva una visione di più di cose. E' stato un parecchio, per l'invenzione, per l'invenzione, per pensare un poco più di cose. Ma pensare un pollo fanno oltre, per pensare un pollo a sempre, e per pensare di newi. Ma è un bambino che aveva un nuovo padre, Sei orgoglioso di tuo padre? Ha creato la prima on-console, gli è stato assegnato il titolo di padre dei videogiochi. Noi gamer lo ringraziamo di cuore. Ma l'idea di mettere tutto insieme era così unico e così rivoluzione, perché prima l'idea di mettere il televisione, nessuno ha pensato di questo concepto di interattività con multiple players e un sistema, come questo bambino che si può vedere, che sarebbe usato e soldi a non una persona o due persone in un labo, ma a mille e mille persone. Quindi questo è quello che ha fatto così rivoluzione e così rivoluzione. Io ho un video clip che mostra un American televisione show in la 1970s, dove loro stanno chiedendo cosa questo era. e anche quando è stato raccontato a loro, in circa 1973-1974, hanno no idea che erano l'idea che erano l'idea, no idea whatsoever. L'idea dell'idea 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 dell'idea. La produzione della Brown Box è stata affidata a Magnavox, un'azienda di elettronica domestica, che commercializzò il prodotto con il nome di Magnavox Odyssey. È stata la prima console per videogiochi domestica uscita sul mercato. Fu presentata il 24 maggio 1972 e messa in vendita nel Nord America nel mese di agosto dello stesso anno. Anticipando Pong, prodotto da Atari, di tre mesi. Mark ci ha inviato un documento molto interessante dal titolo settembre 1966. Potresti parlarcene meglio? Il mio padre stava a la Port Authority, che è un bambino in New York, per prendere un bus. E aveva lavorato per le società di televisioni prima. Ora è già lavorato per Sanders, che è un contrattamento di defensa. Ma aveva lavorato per le società di televisioni, in realtà stavano delle televisioni. Perché in quei giorni stavano delle televisioni in places come gli USA o Europa, non all in the Far East. E sat down, and he was waiting for the bus, and he wrote down all of his ideas about playing with the television. In fact, as you know, by looking at the document, it doesn't say video games, it says TV games. Because nobody had come up with that term yet. Video games. And we've thought about that over time. We're not 100% sure where the idea came up from. But think about this. The old televisions had two inputs in the back. They had an audio input, and they had a video input. And you hooked up this brown box, or the prototype, to the back of your television. You hooked it up through the audio and the video. Well, the early ones didn't even have sound. So it went through the video input. And video is also a word for visual. You know, you can see things. So you use the word video for visual, rather than audio for auditory. So someplace along the way, it goes in through the video system input. And also video is visual. At some point, the document which says TV games got translated to the term video games. And that just caught on. Because it really is video games. Because it's not just on your TV. It's on your tablet. It's on your computer. It's on all things. But anyway. So back to the document. So on September 1st, 1966, he sits down. And he writes down all of his ideas. At least all of them that he had at that point. Onto this document. And he writes down. You're going to play games. You're going to do testing. You're going to do all kinds of different things on your television. More than just standing and look at it. What is the most prestigious award he was awarded? Clearly, the National Medal of Technology, which is given by the President of the United States, is a very big one. Very big. And so that's important. And that gave him national, even international recognition. Right? George Lucas happened to be in the same year, the same group. There was about eight or ten or twelve people who got it that year. Because not every year, but most years. And George Lucas was in that group, which was kind of interesting. Because he wasn't really a scientist. He's not a technology. But he inspired millions of people. So it makes sense. Ciao, Mark. E grazie per il tuo tempo. Ora torniamo allo Strong Museum. Eccoci, JP. Una nostra curiosità. Vista la situazione effervescente del periodo, sai che rapporti c'erano tra Ralph e il fondatore di Atari, Nolan Bushnell? Sebbene l'idea di portare i giochi sulla TV fosse di Ralph, nella storia dei videogames non c'è mai stato un solo creatore, ma diversi flussi di tecnologia in sviluppo come computer, televisione, giochi arcade. C'era tanta collaborazione creativa tra diverse aree indipendenti. Poi però subentrarono questioni legali. E mi riferisco all'episodio in cui Nolan Bushnell testò una versione del Magna Box Odyssey, firmando la sua visita sul registro degli ospiti. L'Odyssey uscì nel 1972 con il gioco del tennis. Poco dopo, Atari rilasciò Pong. Quando Ralph Baier lo vide, disse, aspetta un attimo, in pratica questo è il mio gioco del tennis. Magna Box sporse denuncia non solo contro Atari, ma altre aziende di videogames. Ralph Baier aveva documentato con cura tutto il suo lavoro. D'altronde era un ingegnere esperto. Aveva creato dei modelli progettuali unici e voleva ottenere soldi dalle altre aziende per averne infranto i diritti. Quando la discussione si spostò dai diritti ai soldi, nacque un certo risentimento tra Ralph Baier e Nolan Bushnell. C'era rivalità, anche se avevano un profondo rispetto l'uno dell'altro, ma volevano battersi per i propri meriti. Fu Ralph a raccontarmi un risvolto interessante sulla battaglia tra Magna Box e Atari. Lui riteneva che Pong fosse un'imitazione del gioco del tennis di Magna Box Odyssey, ma le questioni legali sono solo una parte della storia. Ralph ottenne una sorta di vendetta creativa quando vide un gioco Atari chiamato Touch Me durante un'esibizione a una convention. Lo scopo del gioco consisteva nel ripetere una serie di operazioni, e Ralph lo trovò molto interessante, ma a suo avviso l'esecuzione non era all'altezza. Tornato a casa, creò una sua versione del videogame. Lo migliorò, aggiungendo tonalità e colori più luminosi. E quello diventò il gioco chiamato Simon, che in seguito divenne un grande successo natalizio del 1978. Il gioco, quindi, si ispirava a Touch Me, che Ralph decise di migliorare. Credo che lo abbia sempre visto come una risposta alla diatriba Pong e Magna Box. Dopo questo piccolo salto nel mondo della home console, torniamo ad occuparci del settore arcade. Abbiamo scoperto che il primo arcade è stato il Galaxy Game. La sua storia è molto particolare. JP, lasciamo a te la parola. Cosa puoi raccontarci su questo primo cabinato? Galaxy uscì nel 1971, creato da Bill Pitts e Hugh Tucker, e fu uno dei primi approcci sperimentali alla commercializzazione dei videogames. si basava su un gioco precedente chiamato Space War. Bill e Hugh svilupparono una versione del gioco su minicomputer PDP11 e la integrarono in una macchina a gettoni posizionata nei locali dell'Associazione Studentesca di Stanford. Gli studenti potevano così giocare a un videogame in un ambiente familiare e non più nei riservatissimi laboratori computer. Una delle grandi sfide di Space War, e poi in seguito di Galaxy, fu capire come commercializzare il gioco. Space War era nato nei laboratori universitari, mentre Galaxy era destinato alla vendita. Questa però era una sfida, prima di tutto perché i videogiochi erano ancora territorio sconosciuto e poi perché bisognava crearne in massa. Serviva una certa potenza computazionale, per così dire, per produrre il gioco su larga scala. I creatori investirono in questo molte risorse, ma non riuscirono ad ampliare il business e creare un'azienda che guidasse il settore. A tuo parere, quali furono gli errori di questo progetto? Anche se parlare di errore è fin troppo severo, il problema è che in fondo si trattava di esperimenti. Nessuno aveva le idee chiare agli albori dei videogames. Non esisteva un piano per creare un videogame di successo. La sfida è sempre la stessa. Non si tratta solo di creare un gioco, ma di renderlo divertente e remunerativo. Creare un gioco con un buon gameplay e renderlo fruibile e quindi profittevole, fu questa la sfida che non riuscirono a vincere. Abbiamo i creatori di Galaxy Game qui con noi. La loro è una storia di una fantastica amicizia che a distanza di anni è rimasta tale. Siamo riusciti a riunirli per questa intervista. Vi andrebbe di presentarvi? Hugh, hai, mi nome è Hugh Tuck. I went to college at Cal Poly in San Luis Obispo e I graduated in Mechanical Engineering. I met Hugh in high school. We both went to Serra High School, a Catholic Boys' School in San Mateo. and I went to Stanford and two years in. My hobby at Stanford was breaking into buildings. And back then it wasn't a criminal activity. It's what normal males did at that time. Passiamo a Galaxy Game. Come vi è venuta l'ispirazione? Quando ero a Stanford, probabilmente il mio secondo anno, ho scoperto di questo incredibile game called Space War. At that time it was running on a PDP-1 computer that was run by this computer learning program for grade school students. and at night time they had Space War running. So I went down and played it there. Yeah, Bill, he had been telling me about this game and so he said, come on, I'll sneak you in one night. So we went up there, I don't know, it was 11 o'clock at night and Bill, we walked into the building and we looked left and right. It was an amazing building because there was somebody working on the first mechanical arm there, you know, in one room. And in the next room there was somebody working on voice recognition. You know, this was all brand new technology. And then in this other room was the Space War game, which was, you have to remember, there was no Pac-Man, no POM, nothing. There was no games. It was pinball machines or Monopoly. that was it. So there was this display and you could see the two little spaceships and it had real gravity and all the rules of physics applied as the, as the spaceship went around the sun, they would move and you could shoot darts at each other. And if you hit them, the machine, it was just amazing. And there was nothing like it at all. So that's when I made the statement, boy, if we could market this, we'd be rich, which half of that statement was crazy. that's correct. Just not the rich part. In the interim, they came out with a new machine called the PDP-11, which was one of the first mini computers. Yeah. And when they came out with that, Bill came to me and said, Hey, Hugh, they just came out with this PDP-11 and I think I can program Space War to run on the PDP-11. So Hugh put up some money and his brothers and sisters to where, and the first system cost $20,000. And it was, and we knew it would cost about that because the, the, the price list for all the components pretty much let you know what it would cost. I have never claimed anything more than the title of, I'm the one that put coin acceptors on Space War. And joysticks. And joysticks. And the reason that galaxy game got the name galaxy game is when we were finishing the first version and it was going to go onto the Stanford campus. At the same time, we had a lot of anti-war sentiment on campus to the point that, that at nighttime, large groups of people were moving through campus and throwing windows, rocks at windows and breaking windows and things. So Hugh's sister, Terry, well, we decided that if, that Space War would not be a good name for, for what we were building because the claim would be that we're just taking war into space. So we're sitting around the dinner table at Hugh's family's house and his sister comes up. We're all trying to come up with what's the name that's not going to be space war. And his sister Terry came up with the name galaxy game. And that seemed like a fairly innocuous friendly game. So that's, that's where the name came from. We had students piled around the machine, standing on chairs, trying to, trying to see what was going on. There was just tremendous enthusiasm. Actually somewhere in the interim there, we went and talked to Chicago Coin. Now Chicago Coin was the biggest manufacturer of pinball machines. And we told them we had this new idea, which, you know, to executives of a pinball company, they had no concept of what it was. And they said, well, how much would you charge? We said 25 cents a game. They said nobody will pay 25 cents a game to play a game. A dime is what they pay and they're not going to pay 25 cents. And they pretty much brushed us off. So they probably lost out on the best opportunity of their life. with such a business. Tra i giovani che giocavano a Galaxy Game, c'era anche Eugene Jarvis, il creatore di Defender e tanti altri capolavori. Il giovane Eugene è rimasto affascinato da Galaxy Game. Ascoltiamo i suoi ricordi. Hello, I'm Eugene Jarvis. I've been working in video games since 1977. Designing video games is really my life. And I've been fortunate to work in the industry for over, I guess, 40 some odd years. And I started out actually at Atari with Nolan Bushnell. And I had quite an adventure over the years. Parliamo della tua passione per i videogiochi. Qual è stato il primo videogioco a cui hai giocato? Yeah, I was very fortunate. I grew up in Palo Alto, California, which is right next to Stanford University, which, I guess, over the years, became a big center of research for semiconductors and computers and computer science and, you know, as a byproduct video games. I used to, for fun, I used to ride my bicycle over to Stanford and just hang out and see what was going on. And sometimes I would sneak into some of the computer laboratories. One day I was over on campus and there was this brand new thing, you know, like computer screens and all the students were like crowded around. and so, you know, I was checking it out. And basically it was the, I guess, essentially the first arcade video game ever created. And it was called the galaxy game. and it was basically an implementation of Space War, which to me is probably the most legendary game in the entire industry, which I think really started, of all games, really started video games. I was just fascinated by it and the, you know, the students would play it on and off. And I didn't really have very much money in those days, so I would mainly watch. And it was just a fantastic, it was almost magical. Pochi mesi dopo Galaxy Game, venne rilasciato Computer Space, il primo video game di Nolan Bushnell. JP, cosa puoi dirci in merito? Computer Space uscì nel 1971, creato da Nolan Bushnell insieme a Ted Dubney per Nothing Associates. Era basato su Space War, un gioco sviluppato per il PDP-1. Bushnell e Dubney portarono in sostanza il gioco da un computer mainframe di quelli così grandi da riempire a mezza stanza ai cabinati piazzati nei bar, nei ristoranti e sale gioco di tutto il paese. Fu quindi un tentativo di rendere la tecnologia e i contenuti di Space fruibili a tutti, ovunque. Presero il gioco, gli costruirono un cabinato modellato in fibre di vetro e dissero ok, faremo giocare la gente per 25 cents a partita. Il problema, ovviamente, era che nessuno sapeva giocare. E questo si rivelò un grande ostacolo per il gioco. Computer Space ha un design fantastico. Puoi parlarci della struttura del cabinato? Computer Space era un gioco in bianco e nero, ma i cabinati avevano un meraviglioso design futuristico. Erano ricurvi in fiebre di vetro, un materiale portentoso al tempo, e venivano prodotti in diversi colori. Rosso, verde, giallo, blu, bianco. Il gioco puntava ad essere accattivante, spettacolare, attirando la tua attenzione per farti inserire la moneta. Il problema era che il gameplay non era all'altezza del computer space originale e la gente non aveva dimestichezza con il concetto di videogames. Dalle nostre ricerche risulta che non ebbe molto successo. A tuo parere, come mai Nolan non si fermò e cosa imparò da questo progetto? Nolan Bushnell era un visionario. Una figura che univa la competenza ingegneristica con il senso per lo spettacolo. Non a caso, in passato, aveva lavorato anche come imbonitore. Sapeva che le persone nutrivano un grande desiderio di intrattenimento. Bushnell aveva visto qualcosa e aveva solo bisogno di portarlo in vita. La lezione che apprese è che un gioco deve essere abbastanza facile da capire per le persone. Appena vedi un gioco a Luna Park sai già cosa devi fare. Che si tratti di colpire un bersaglio o scoppiare un palloncino. in qualche modo serviva un gioco che fosse altrettanto riconoscibile e familiare per le persone. E questo lo ottenne con il suo titolo seguente. Pong. Questo è il modello per il computer space che poi si è bloccato. Avete visto cosa sembra il computer space? È il big cabinet, il fibroglasso. E' un modello per il prodotto. C'è un modello per l'arco di un sottotitolo. La scala di un prodotto. Un prodotto. C'è un prodotto. Il prodotto. Il prodotto. Inoltre le settore. Il prodotto. market place and it sold about 2 million dollars worth of product and uh and that was kind of the very first video game eugen i mai giocato computer space um yes you know it's interesting i have that game actually in my in my basement i have an arcade in my basement i do yeah i have one of those uh games they were i bought it uh there was i think in the 1980s sometime they were um there was having auctions of obsolete computer games and before they were throwing them out uh they were trying to sell it and so i bought it for a hundred dollars and uh um it's uh it's amazing 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 uh cabinet it was fiberglass uh um red uh metallic uh uh speckled fiberglass cabinet looked like a spaceship um but basically it was uh i guess nolan bushnell's first uh computer game um before pong after some it had some some small success but people um it just it didn't catch on and i think a couple problems one thing was again this was before this was in i think early 1972 or late 1971 um it um it might have been inspired by the galaxy game which was uh which i played but um it uh um it was uh just people it was very complex you know again like space wars a very complex game and probably was even harder to play on that cabinet because um it was raster which had very poor resolution and uh you didn't have the vector monitor which was very smooth and beautiful um and uh the response was not quite as good and uh um the uh the other weird thing about the controls is that um you you would uh that you would fire with your left hand and i think that was one reason it failed was um people are naturally want to fire with their right hand and and not their left hand so i think that was very confusing to people because you want to fire with your dominant hand and uh um but it was uh you know very fascinating game and uh but ahead of its time as far as the masses were concerned and uh a year later i think uh um atari was formed with uh no language no formed atari and uh and then pong took over the world un altro studente del mit ha creato una sua versione di space war chiamandola space wars non si è limitato a creare solo il video game ma anche l'hardward e la tecnologia necessaria realizzando così il primo arcade game con grafica vettoriale la grafica vettoriale permette di creare oggetti che ingranditi all'infinito non perdono qualità e definizione andiamo a scoprire chi è i'm a larry rosenthal i develop the vector being vector display system and made the classic mit space war game available to be played by the general public cosa ti ha portato nel settore dei videogiochi ok i never gave video games a thought until i saw a computer space game uh that's that was the game in the gaudy plastic cabinet uh in the student union building at mit after i graduated at mit i went to continued uh at uc berkeley and during the first christmas break i went back to uh cambridge to visit friends at mit and that's when i saw noam bushnell's uh computer space and i said what i mean the display is really crude and i said what is something like this doing in a place like this where or the real space where was developed yeah that's that's and i that's when i said i'm gonna build a space for gaming make it available to the masses that's that's when i got the idea for it quando ti sei reso conto di aver creato qualcosa di nuovo e sorprendente con la tua tecnologia innovativa per videogiochi when i develop my vector display systems state-of-the-art mini computers at that time use that use vectors to a draw on the screen however those systems cost tens of thousands of dollars i was able to come up with a system where i could draw vectors of reasonable resolution on the screen and the electronics cabinet everything came to about six hundred dollars and then we sold them for about two thousand dollars so what i did was came up with us with a system that previously cost tens of thousands of dollars and i was able to get it down to six hundred dollars qual è il miglior complemento che hai ricevuto at a game show in chicago i remember i was looking at at atari's asteroid game i think it was a pretty it was atari's first vector displays game and wish i had thought of it it's a pretty good game and one of the senior programmers from atari came up behind me while i was looking at the game and said do you recognize the ship you should grazie per aver seguito con noi questa puntata ringraziamo jp e lo strong museum per la loro calorosa accoglienza torneremo da loro nelle prossime abbiamo imparato che il termine hack e hacking negli anni 50 non era legato agli attacchi informatici ma significava e significa tuttora per chi frequentava all'università mit lavorare duramente i primi computer non avevano sistemi operativi ma schede perforate e occupavano delle stanze enormi grazie alle ricerche di federico faggine nel 1971 intel corporation rilasciò il primo microprocessore dando il via ad un'evoluzione tecnologica molto importante ralph bier chiamato anche il padre dei videogame ha creato il prototipo della prima console casalinga che successivamente venne commercializzata da magnavox con il nome di odyssey hug e bill hanno provato a commercializzare il primo arcade ma a causa di una tecnologia troppo costosa e una carenza nella conoscenza hardware non ce l'hanno fatta sono riusciti comunque nell'intento di far divertire migliaia di studenti nolan bushnell ha studiato al meglio la situazione lanciando computer space con un hardware da lui creato ad un costo complessivo di circa mille dollari non gli andò come si aspettava ma si promise di capire tante cose a riguardo e di preparare la sua prossima mossa nell'anno successivo fondare atari e lanciare pong con il nostro corso di un'evoluzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.